De vita solitaria di Francesco Petrarca. Che cos'è? È un trattato filosofico morale. Lui l'aveva iniziato a scrivere addirittura intorno al 1347, poi però l'aveva lasciato o comunque non l'aveva concluso e lo concluse solamente quasi poco prima della morte, Francesco Petrarca, questo libro. Si tratta di un trattato, ecco sì, era stato scritto nel 1346 e poi revisionato fino al 1371. Il De vita solitaria è un trattato in latino, anche se lui ha sempre un po' in mente i dialoghi e ne parleremo tanto anche oggi. Effettivamente, infatti, il suo capolavoro in latino probabilmente è il secretum, che è un dialogo. Però anche questo, da un certo punto di vista, lo imposta come se fosse un dialogo, anche se non ci sono più interlocutori. Così come faceva, per esempio, Seneca nelle sue lettere a Lucilio, in cui aveva un unico interlocutore, che era l'amico Lucilio. Il testo è introdotto da un'epistola di dedica indirizzata ad un suo amico. E' una specie, ecco, infatti, in forma di lettera, ecco, ecco perché tutto sommato anche il De vita solitaria è probabilmente il migliore dei trattati di Francesco Petrarca, poi ne farà altri, De ozio religioso, eccetera. Ma questo qui, proprio perché è in forma di lettera, continua a mantenere, in buona sostanza, quella forma dialogica che a lui piaceva tanto. E anche, infatti, anche le pistole, cioè le lettere in latino, sono testi bellissimi in latino di Petrarca. Viene sviluppato, ovviamente, in questo libro il tema della solitudine e della pace interiore. La pace interiore la si può conseguire solamente nella solitudine. Noi, per esempio, abbiamo letto il sonetto Solo e Pensose, più deserti, calli. Ecco, abbiamo visto quindi che nel canzoniere certe volte la solitudine non è molto positiva, a dire la verità. Però Petrarca, poi, maturando, andando avanti sempre di più nella riflessione, individua proprio nei luoghi appartati. Per esempio, lui amava tantissimo Valchiusa, che era questo posto, insomma, in Provenza, dove lui piaceva sostare e dimorare, proprio perché era un posto in cui lui poteva vivere all'interno della natura in un luogo ideale, un locus amenus. E questo era proprio l'ideale, secondo lui, per un intellettuale. L'opera divisa in un proemio ed in due libri. La tematica dell'opera e lo stile avvicinano l'opera al secretum. Quel dialogo, insomma, sul quale noi abbiamo già fatto dei video, in cui sono presenti tre personaggi lì. Lì, in quel dialogo, effettivamente, ci sono tre personaggi proprio che si alternano, soprattutto due, cioè l'io, narrante il Petrarca e Sant'Agostino. Poi c'è un terzo personaggio silente, che potrebbe essere la verità. E' un altro passo, questo del De Vita Solitaria, sul percorso di spiritualizzazione delle passioni terrene, che attraversa tutto quanto il canzoniere. Abbiamo visto, comunque, no? Siamo, vi ripeto, anche in una fase un po' diversa della sua vita, la fase della maturità, possiamo dire. Se avete in mente il canzoniere, la fase della, per esempio, delle canzoni in morte di Laura. La questione della vita solitaria è fondamentale per Petrarca, perché è veramente una condizione che permette all'uomo di riflettere su se stesso, di vivere in maniera pacata a contatto con la natura. Secondo la tradizione, Petrarca si sarebbe accinto alla composizione di questo trattato appunto quando era valchiusa e quando viveva questa condizione, durante i giorni della quaresima del 1346. Ecco, adesso vi faccio vedere una slide che riporta proprio l'immagine dell'amico di Francesco Petrarca, che era un ecclesiastico, un cardinale. Filippo di Cabasoles, o Cabasole, Cavaillon, probabilmente in francese, era nato nel 1305, quindi davvero un coetaneo di Petrarca, e morirà poi a Perugia nel 1372, quindi, in buona sostanza, balla un anno tra il Petrarca e il Filippo di Cabasoles, fu reggente e cancelliere del Regno di Napoli, rettore del contado Venassino, legato pontificio, vescovo di Cavaillon e amministratore apostolico di Marsiglia, poi patriarca di Gerusalemme, cardinale presbitero dei Santi Marcellino e Pietro e cardinale vescovo di Sabina. Vabbè, insomma, questi sono tutti i suoi titoli. La tradizione vuole che questo amico, Filippo di Cabasoles, sia giunto a Valchiusa per stare qualche giorno insieme con Francesco, con Francesco Petrarca. I due discutono per due settimane dei vantaggi della solitudine e della vita ritirata e serena per l'uomo di lettere, che può così dedicarsi pienamente allo studio. Poi Francesco avrebbe scritto di getto la prima stesura del De Vita Solitaria, però non l'ha concepito come un dialogo fra sé e il proprio amico, Filippo di Cabasoles, però gliel'ha dedicato a Filippo di Cabasoles. Poi l'ha ripreso, più e più volte ripreso, non l'ha pubblicato subito, l'ha rielaborato, pubblicato molti, molti anni dopo. Ecco, il proemio è proprio quello dedicato a Filippo di Cabasoles. E' questo il punto in cui lui spiega che cos'è un locus amenus, in cui il sapiente deve ritirarsi per dedicarsi in pace ai propri studi, lontano dalla confusione e dalle preoccupazioni della vita cittadina. Poi c'è il primo libro. Ecco, un'altra opera molto simile al De Vita Solitaria e al De Ozio Religioso. In queste opere si esaltano la solitudine dell'intellettuale e anche la serenità dei monasteri. Ricordiamoci infatti che Petrarca è un umanista cristiano e quindi cerca di conciliare per esempio l'amore per i classici, per il latino, con una visione comunque cristiana del mondo anche se insomma lui non porta questa visione cristiana fino al punto magari che ne so anche lui di farsi frate come il fratello Gherardo ricorderete l'ascensione al Monte Ventoso. Però gli rimane comunque questa impostazione umana. Il trattato non a caso è scritto in latino perché Petrarca unisce profonda spiritualità cristiana e un grande amore per i classici. Nel primo libro vengono espresse le argomentazioni del poeta su questa condizione ideale di vita. La solitudine oltre a favorire lo studio e la creazione artistica migliora l'essere umano aiutandolo nella conquista della pace interiore e nel raggiungimento di un più sereno esame di coscienza personale utile al costante auto-perfezionamento di se stesso. Ecco leggeremo poi un brano tratto da questo primo libro e capiremo quindi l'atteggiamento che Petrarca tende ad esaltare questa solitudine infatti ci libera dalle preoccupazioni soffocanti che sono prevalenti per l'uomo di mondo ci possiamo così dedicare alla contemplazione allo studio alla preghiera lui non vede una contraddizione non so una una sorta di competizione fra gli studi letterari classici e gli studi religiosi o le preghiere ci sono qui riferimenti continui a San Paolo per esempio Petrarca ci rappresenta così lo stile di vita più caro in cui accantonati gli affanni e le inquietudini l'individuo possa davvero realizzare il proprio desiderio umano il proprio cuore la propria predisposizione anche alla santità perché no ecco è molto importante anche il secondo libro infatti nel secondo libro ci sono gli esempi ah qui ho sbagliato invece di andare avanti con la slide sono andato indietro ecco non a caso abbiamo qui usato un emesso una slide di Seneca perché l'abbiamo già spiegato probabilmente Seneca ha molto ispirato Francesco Petrarca per queste opere morali perché lui Seneca amava molto il dialogo e anche quando scriveva semplicemente delle lettere impostava comunque i suoi testi come fossero un dialogo in quel caso un dialogo con il suo allievo Lucilio e amico Lucilio ecco è più o meno quello che avviene nel De Vita Solitaria anche se non è espressamente un dialogo come il secretum di fatto è concepito come se lo fosse oltretutto molte delle tematiche che sono presenti nelle lettere Lucilio quindi nelle opere di Seneca le possiamo ritrovare lo stesso Seneca aveva aveva si era ritirato dalla vita pubblica cioè lui per un certo periodo di tempo intanto salutiamo i nostri amici Simone Ali Ahmed Sara Simone Renata Teresa Seneca era stato il maestro di Nerone ed era stato a corte per parecchi anni a un certo punto poi vabbè poi ci sono ovviamente le interpretazioni storico-politiche però a un certo punto decide di ritirarsi cioè decide di lasciare questa vita mondana questa vita sotto gli occhi diciamo della gente e di ritirarsi a vita privata ecco perché possiamo trovare un'analogia ecco tra quanto sta esaltando Petrarca in quest'opera e anche il modello di Seneca oltre però a questo esempio l'esempio di Seneca Petrarca ne assume molti altri in questo secondo libro sembra quasi imitare il De Viris Illustribus nel senso che elenca proprio tantissimi grandi appunto sia della storia dell'antichità romana e greca sia della storia biblico-cristiana e qui fa un elenco di tantissimi che hanno raggiunto l'ideale pace della solitudine anzitutto i patriarchi Abramo Isacco e Giacobbe in certe fasi della loro vita poi i profeti Elia Eliseo Geremia infine i padri della chiesa come Sant'Ambrogio e soprattutto Sant'Agostino Sant'Agostino ovviamente abbiamo visto nel secretum è molto presente nella riflessione morale filosofica di Francesco Petrarca e anche la sua vicenda umana narrata nelle confessioni è molto simile a quella che Petrarca sente come sua cioè la tentazione la tentazione dell'amore la tentazione della vita mondana anche degli onori pubblici nella prima fase della vita e poi invece una sorta di scelta spirituale o di conversione se vogliamo nella seconda parte della vita poi ancora San Gregorio Magno che era stato un papa San Benedetto che anche quello può essere sicuramente un modello poiché propone la vita contemplativa come scelta esistenziale da abbracciare radicalmente ma anche San Francesco se pensate per esempio al momento in cui anche lui lascia la vita mondana precedente la ricchezza precedente si spoglia di tutto e si dedica ai poveri e agli altri però lasciando completamente il mondo ma ci sono tantissimi esempi presi dalla storia classica filosofi oratori condottieri vari che a un certo punto della loro vita hanno pensato di ritirarsi nella conclusione del De Vita Solitaria Petrarca invita il suo amico Filippo di Cabassoles a tornare al godimento di una vita pacifica e solitaria l'abbiamo già spiegato Filippo di Cabassoles era comunque un uomo che aveva incarichi molto importanti che girava era ambasciatore pontificio era un vescovo aveva tanti onori anche religiosi patriarca di Gerusalemme eccetera quindi sicuramente era una vita movimentata la sua aveva goduto per qualche giorno della pace della solitudine di Valchiusa insieme con Francesco e adesso Francesco gli suggerisce di dedicare sempre più tempo se possibile a questa a questa pace e a questa solitudine leggiamo adesso alcuni brani sparsi diciamo tratti da questo da questo trattato dove per esempio dice invece della confusione la pace invece dello strepito il silenzio invece della folla se stesso cioè stare da soli con se stesso egli ha se stesso compagno egli sarebbe colui che si dedica a questa vita contemplativa solitaria egli è interlocutore e commensale di se stesso non teme di essere solo finché sta con se stesso poi ancora in un altro brano io credo che l'animo generoso non si riposa non si contenta se non in Dio nel quale è il nostro fine veramente in se stesso con i suoi secreti pensieri o veramente in alcun altro animo molto simile a lui perché sebbene il diletto mondano è impagnato di tenacissimo vischio è pieno di lusinghevoli e dolci lacci non di meno egli non è potente a tenere lungamente in terra le ali che sono forti cioè la mente dell'uomo magnanimo disposta e intenta a cose grandi e alte ecco qui ancora una riflessione che ci fa venire in mente il canzoniere ricorderete che anche nel primo sonetto del canzoniere lui ci presentava insomma la tentazione d'amore come un errore giovanile qui usa la metafora del 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 mondo no del diletto mondano impagnato di vischio cioè tutto pieno di un di un qualcosa di appiccicoso che continua a a tenerci stretto a queste a questi istinti e invece Petrarca ha scoperto che se uno ha un magnanimo ha un grande animo è destinato comunque a volare prima o poi non può più essere trattenuto come appunto accade con il vischio ancora più esplicitamente ci viene in mente l'inizio del canzoniere quando Petrarca nel De Vita Solitaria scrive l'adolescenza mi illuse la gioventù mi traviò ma la vecchiaia mi ha corretto dovete sapere infatti che allora a 40 anni si era già considerati vecchi e con l'esperienza mi ha messo bene in testa che era vero quel che avevo letto tanto tempo prima che i godimenti dell'adolescenza sono vanità poi ancora scrive cinque nemici della pace abitano con noi l'avarizia l'ambizione l'invidia la rabbia e l'orgoglio se questi dovessero essere banditi noi finalmente godremmo infallibilmente di pace per sempre e poi ancora è più onorevole essere elevato a un trono che essere nato la fortuna dona l'uno il merito ottiene l'altro ecco abbiamo letto alcune frasi citazioni da questo libro da questo trattato del De Vita Solitaria ma adesso leggiamo proprio un brano tratto dal primo libro usiamo il nostro libro di università molti lo conosceranno la letteratura italiana delle origini di Gianfranco Contini un libro straordinario Gianfranco Contini è stato un critico storico della letteratura di livello sommo e non ha realizzato un'antologia di tutta quanta la storia della letteratura italiana ma solo dell'inizio e della fine cioè appunto delle origini e poi c'è il 400 e poi c'è la letteratura del 900 e questi sono dei cardini della storia della letteratura scrive Contini che questo è il migliore dei trattati di Petrarca proprio per quell'aspetto di cui vi stavo parlando prima cioè perché è nato come dice lui stesso alla fine dell'opera come un'epistola come una lettera di tipo senechiano e questo genere a lui più congeniale rispetto al trattato Putabam Enem Epistulam scrivere Librum Scripsi io pensavo infatti di scrivere una lettera poi ho scritto un libro un trattato ecco però di fatto da un punto di vista psicologico l'ho sempre pensato dice lo stesso Petrarca come una lettera la solitudine di cui si fa l'elogio è anzitutto qualcosa di opposto all'attivismo forse nato di chi vive nelle città e così noi leggiamo proprio un brano del primo libro dove si contrappongono due personaggi uno che è l'indaffarato l'uomo indaffarato è colui che è sempre inquieto preoccupato triste privo d'affanni è molto attuale un brano come questo perché ci fa venire in mente l'uomo moderno l'uomo contemporaneo che non ha mai tempo per se stesso Petrarca vuole segnalare i rischi di questa esistenza consumata nel fare nell'attivismo esasperato instancabilmente proiettata in mezzo alla gente e questo porta con sé dispersione infruttuosa dei propri talenti e priva l'individuo di ogni identità dice Petrarca infatti io non lodo il nome della solitudine non mi interessa esaltare la solitudine in quanto tale ma per i vantaggi che in essa si trovano i luoghi appartati e deserti e il silenzio non mi piacciono tanto quanto la libertà di disporre serenamente del proprio tempo che alberga proprio in questi luoghi in questi luoghi appartati e deserti noi finalmente proviamo la libertà siamo padroni di noi stessi ecco perché in questo brano viene contrapposto questo uomo indaffarato all'uomo solitario c'è una grande differenza tra i due stili di vita quello dell'uomo affacendato indaffarato e quello del solitario e lui in questo brano libro primo capitolo secondo ne parla a proposito del momento del pranzo viene l'ora del pranzo quello si sistema ecco tra l'altro ille iste insomma ille ic ecco qui abbiamo proprio ille per esempio abbiamo proprio il testo latino venit prandi tempus ille subingenti eccetera eccetera no e poi abbiamo iste vero esatto cioè proprio nel brano latino c'è un ille e c'è un iste c'è quello che è l'uomo indaffarato e l'iste che è l'uomo solitario insomma questo brano è fortemente distinto in due parti e la prima parte è quella dell'ille cioè di questo uomo indaffarato si sistema soffocato e sepolto da cuscini sotto un enorme pericolante baldacchino una struttura a quattro gambe ricoperta dall'intelaiatura da un drappo di seta che testimonierebbe della sua ricchezza che si può permettere no molto sontuoso le stanze risuonano di rumori diversi lo attorniano cani regali cioè cani di razza pregiata topi domestici una schiera di aduratori li ha calcata intorno intorno ovviamente i topi perché perché i topi possono godere degli avanzi della mensa luculliana dell'uomo indaffarato gli aduratori fanno a gara per assecondarlo una folla raccogliticcia così disordinata di servitori prepara la mensa tra grida e confusione si scopa il pavimento putrido e ogni cosa si riempie di sudicia polvere corrono per le stanze argenti dorati coppe ricavate da gemme cave le panche vengono rivestite di seta le pareti di porpora il pavimento di tappeti mentre lo stuolo dei servi non ha un servo solo l'uomo indaffarato è molto ricco e ha una vera e propria schiera di servi trema dal freddo i nudi tremano dal freddo perché il padrone non dà neanche loro da vestirsi da coprirsi schierato l'esercito si intende dire l'esercito la schiera di servi vi è andato al fine con uno squillo di tromba il segnale di battaglia è una metafora per dire che si aprano che si apra la mensa insomma che si comincia a mangiare i condottieri della cucina si scontrano con i condottieri della sala da pranzo si intende i servi che preparano da mangiare con quelli che devono darlo agli invitati un grande frastuono si leva si portano insieme cibi ricercati strappati alla terra e al mare insomma carni e pesci rari che con fatica si è riuscito a ottenere dalla caccia e dalla pesca vini pregiati al tempo dei consoli antichi insomma vini che risalgono addirittura a tanto tempo fa e per questo motivo ancora più raffinati e costosi brillano nel biondo oro uve nostrane greche in una sola coppa si mescolano gnoso e meroe vesuvio e falerno ecco qui attenzione vengono ripresi proprio dei vini dell'antichità infatti dobbiamo sapere che questa parte qua di questo brano che stiamo leggendo ha un modello il modello è quello della cena di nasidieno nell'ottava satira di orazio infatti viene descritta una cena molto suntuosa ricca davvero una buffata incredibile questo nasidieno si compiace di poter invitare molta gente e di poter offrire loro cibi particolarmente strani e originali e quindi molto vanaglorioso nasidieno ci viene in mente anche la cena di trimalcione del satiricon di petronio ovviamente solo che i medievali non conoscevano non leggevano assolutamente i satiricon di petronio quel poco che ci è arrivato del satiricon di petronio è riuscito a sfuggire a una specie di censura poiché si trattava di un testo che insomma i cristiani non amavano e quindi avevano tralasciato del tutto pensando anzi proprio che fosse caduto nel dimenticatoio siamo stati poi noi a riscoprire questo testo latino insieme ad altri dopo la fase diciamo medievale e non è abbastanza se l'ausonio bacco trattato con miele e ibleo ovviamente l'ausonio bacco sarebbe sempre il vino il vino qui è denominato bacco per via del dio del vino che appunto a Roma così era chiamato ausonio bacco sarebbe un vino italico infatti ausonia è la denominazione impiegata in età ellenistica per l'Italia centro-meridionale per la Magna Grecia trattato con mele e ibleo probabilmente si mescolava il vino col miele ibleo miele siciliano o con succo di canna d'oriente profumato con nere bacche comunque il vino non muta per arte la propria natura è in grado sempre di far ubriacare da un'altra parte si scorge un apparato di uguale sfarzosità ma di diverso genere animali straordinari pesci mai visti uccelli sconosciuti cosparsi di rare spezie macinate sono i cibi dimentichi delle loro antiche origini si dice quasi ironicamente sembrano essersi dimenticati della loro originaria natura per effetto del trattamento gastronomico tanto artificioso ed elaborato mentre essi mangiano fumano le splendide vivande sottoposte a ogni capriccio dei cuochi se qualcuno pur molto affamato vedesse in che modo disgustoso e con quanto artificio esse sono state messe insieme se ne andrebbe saziato da solo spettacolo vedrà così con misti e tra loro in contrasto cibi nostrani e stranieri frutti del mare e della terra neri e bianchi aspri e dolci carni d'animali irsuti ad esempio con peri ispidi e lunghi e pennuti mansueti e feroci è come se quell'antico caos ovidiano fosse stato rinnovato e costretto in spazi angusti ecco secondo infatti ovidio all'inizio delle metamorfosi ovidio scrive che prima che esistessero il mare la terra il cielo l'universo aveva un unico indistinto aspetto che fu chiamato caos cioè questo pranzo è caratterizzato da una varietà esagerata di cibi messi insieme l'uno all'altro solo ed esclusivamente per dimostrare quanto è facoltoso il padrone di casa e fa venire in mente il caos ovidiano e poi ancora quello cioè quello ricordate ille e iste quello comunque pur con tutto questo sfarzo con tutti questi cibi eccetera sta seduto con la fronte rannuvolata non è mica contento cioè l'uomo indaffarato l'uomo ricco non è contento per nulla lo sguardo serio le sopracciglia grottate il naso arricciato le guance pallide distaccando faticosamente le labbra incollate sollevando a stento il capo stordito dai bagliori e dagli odori gonfio per la crapula insomma per la baldoria della sera prima è turbato per l'esito degli affari del mattino è già preoccupato per gli affari del mattino non sa più dove si trova intento a meditare futuri imbrogli dove dovrà rivolgersi cosa dovrà fare per accumulare sempre più denaro suda manda cattivo odore rutta sbadiglia e assaggiando ora questa ora quella vivanda per tutte prova nausea come vedete quindi c'è un quadro grottesco di questo uomo indaffarato la scena è proprio qualcosa di innaturale è qualcosa di stonato sia l'arredamento della sala il comportamento dei servitori la ricchezza delle stoviglie i cibi che compongono un insieme grottesco ipertrofico cioè una sorta quasi di esagerazione di abbondanza senza nessun senso però questo caos riflette il disordine morale del personaggio protagonista che come vi stavo spiegando prima è proprio un uomo comunque infelice cioè pur essendo così ricco potendo permettersi tutto questo sfarzo c'è una malattia morale profonda dentro di lui la vita vissuta così perde ogni senso e dignità l'uomo tradisce se stesso la sua autentica natura è triste quindi è sempre preoccupato isolato completamente non sa più dove si trova non sa chi gli sta intorno a dispetto della sua ricchezza è un infelice perché ha trasformato il lavoro in un'indemoniata follia che lo conduce a dimenticare il suo cuore e i fondamentali aspetti della vita circondato e circuito dagli altri è infatti c'è una sorta di schiera di adulatori che fanno gara per assecondarlo si rende conto che lo fanno solamente perché in qualche modo vogliono partecipare alla sua fortuna economica non perché li vogliano bene ecco avrete notato che ho scelto oh mamma non ve l'ho fatto neanche vedere avevo scelto questo quadro che è un particolare del quadro di nastaggio degli onesti di Botticelli che si trova adesso al Prado nel 1483 Botticelli aveva dipinto questa scena all'interno di una serie di dipinti dedicati alla novella nastaggio degli onesti di Boccaccio a un certo punto della novella viene indetto un pranzo molto ricco e sfarzoso ecco quindi qua potete vedere i servitori ecco l'ho trovato abbastanza affine a quello che noi stavamo dicendo anche se lì svolge una cioè funzionale insomma alla storia di nastaggio degli onesti invece ho scelto per il la seconda parte del nostro del nostro brano avrei scelto vediamo se riesco a farvelo vedere no non riesco ah ecco ecco qua ho sbagliato slide eccola qua ho scelto un quadro di Annibale Carracci il quadro viene denominato generalmente così il mangia fagioli e si trova a Roma nella galleria colonna Annibale Carracci è un pittore bolognese del secolo successivo cioè del sedicesimo secolo questo per leggere invece l'altro brano l'altra parte del brano che inizia adesso costui invece costui sarebbe l'uomo solitario accontentandosi di pochi servitori o di uno solo o di nessuno sobrio e sano per il digiuno del giorno innanzi nella sua modesta abitazione arricchisce la sua tavola pulita di nulla più che della propria presenza anziché confusione ha pace anziché grida silenzio anziché folla se stesso egli ha se stesso e compagno di se stesso interlocutore e commensale e non ha paura di essere solo finché è con se stesso il luogo dei baldacchini ha una nuda parete di pietra rozza in luogo dell'alto seggio d'avorio ecco si intende ovviamente i sedili riccamente ornati magari di quella vi ricordate di quell'uomo indaffarato una quercia o un semplice faggio o un abete ama guardare il cielo non l'oro calpestare la terra non la porpora musica gradita e dolcissima melodia è per lui quando si siede e quando si alza la benedizione e il rendimento di grazie la preghiera di benedizione sul cibo che si sta per prendere e quella di ringraziamento alla fine del pasto un contadino se le circostanze lo richiedono gli fa da coppiere da cuoco e da domestico qualunque piatto li imbandisca egli lo rende gustoso con la sua benevolenza e moderazione anche se qualcosa di molto semplice come questo piatto di fagioni che vediamo in questo quadro diresti che ogni cibo provenga da foreste o lì di lontani che ogni vino sia stato premuto sui colli della Liguria o del Piceno tale è l'espressione tale è l'animo di chi ne gode così riconoscente verso Dio e verso gli uomini contento di vivande comuni e non comprate non soltanto eguaglia nell'animo le ricchezze dei re come il famoso vecchietto virgiliano ah sì qua ci si riferisce al vecchio di Corico siamo nel quarto libro delle georgiche di Virgilio e Virgilio ci spiega che in una città lontana che si trova in Cilicia in Asia Minore la Cilicia corrisponde adesso più o meno a quella parte della Turchia costiera che è di fronte a Cipro dice quest'uomo qua dice Virgilio si accontenta di poco ed è felice di questo nel profondo del suo cuore non invidia nessuno non odia nessuno contento della propria condizione è inaccessibile alle offese del destino non teme nulla non desidera nulla ecco come vedete c'è una grande contrapposizione fra quella mensa esagerata anche caotica troppo piena di cibi anche in contrasto fra di loro con questa mensa semplice con la purezza di cuore la scelta di moderazione dell'uomo solitario la nuda autenticità del proprio essere non ha bisogno di nulla per essere felice o quantomeno di ben poco quello che importa che viene sottolineato da Petrarca è la purezza del cuore la serena beatitudine l'accontentarsi della propria condizione la sapienza interiore non aver paura di nulla e nulla desiderare ecco questa è la sintesi di quanto Petrarca ha voluto esprimere con questo libro del De Vita Solitaria di cui abbiamo parlato stasera